Benvenuto su Gossip in the News. Prima di aggiornarti sulle ultime notizie ti invitiamo a iscriverti al canale. Per noi il tuo contributo è importante. La famiglia di Franco Di Mare sta vivendo giorni di grande dolore. Il noto giornalista è deceduto ieri all'età di 68 anni a causa di un mesotelioma, malattia di cui aveva recentemente parlato pubblicamente per la prima volta. Franco è morto circondato dall'affetto dei suoi cari, mantenendo la lucidità fino alla fine, come ha dichiarato suo fratello Gino in un'intervista alla Repubblica. Se n'è andato senza soffrire, lucido. C'è un particolare però che non riesco a togliermi dalla testa. Franco è morto alle 17 e 17 di venerdì 17. Uno potrebbe dirmi sei napoletano, sei scaramantico. Mi chiedo invece come sia possibile che mio fratello se ne sia andato in questa data e ora così particolari. Gino Di Mare ha condiviso i momenti finali trascorsi accanto al fratello. Prima di addormentarsi mi ha chiesto mi porti ancora al mare? Il nostro mare è posillipo, lì siamo nati e abbiamo trascorso la nostra infanzia. Lì mio nonno Francesco Di Mare ha insegnato a Franco a nuotare, a Lido Ondina. Negli ultimi tempi, la malattia aveva indebolito Franco considerevolmente. Gino ha aggiunto che Franco la definiva una malattia professionale e ha spiegato, mio fratello è stato in Bosnia, in Kosovo, in Macedonia. Certo non l'ha preso a casa il mesotelioma. La Rai gli ha voltato le spalle nel momento più delicato della sua carriera. Lui ha dato la vita per la Rai. Lascia un tuo pensiero per questa notizia. Ciao, a presto.